ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video vi mostrerò la posizione delle monete d'oro in fortnite fino ad oggi perché praticamente si sono sbaggate quest'oggi e aggiungerei per fortuna quindi vi mostrerò la posizione di tutte le monete d'oro disponibili fino ad ora iniziamo dalla prima che si trova praticamente sulla cima di questa montagna qui praticamente dove vi è anche l'elicottero e dove dovrebbe esserci una bandiera se non vado errato ora ve la mostro il tempo di arrivarci ovviamente qui c'è l'elicottero vedete il mio consiglio è quello di prendere l'elicottero per raccoglierla perché si trova in un luogo elevato e a meno che non giocate in modalità rissa squadre o non usate il deltaplano non potete prenderla eccola qua vedete praticamente è sulla punta della bandiera potete prenderla anche così credo no ok avete bisogno del della costruzione o comunque di un elicottero si trova praticamente qui vedete la prima moneta d'oro si trova qui sull'asta della bandiera la seconda si trova praticamente vicino qui sotto il ponte quindi vi siete spostati da qui a qui sotto il ponte trovate la seconda moneta d'oro se avete l'elicottero le prendete facilmente la terza moneta d'oro si trova più avanti quindi da questo ponte siamo passati a quest'altro sempre con l'elicottero diciamo riuscite a prenderla facilmente quindi vi risparmiate tempo e risorse la quarta moneta si trova sul faro quindi siamo ben lontani dalla terza moneta mi trovo praticamente qui nella parte alta sul faro sempre con il nostro amico chopper possiamo prenderla quindi questa è la quarta moneta d'oro appena ci arrivo ve la mostro io consiglio sempre di usare il chopper perché almeno non avete problemi a procurarvi il necessario e a costruire poi la struttura eccola qua questa è la quarta moneta andiamo ora alla quinta la quinta e ultima moneta d'oro che potete prendere con l'elicottero si trova a foschi fumaioli non ha bisogno di presentazione praticamente si trova qui la moneta d'oro è tra i due fumaioli quindi al centro praticamente non potete sbagliarvi e potete prenderla con l'elicottero quindi appena arrivate vedete è praticamente qui non potete assolutamente sbagliarvi procediamo adesso alle monete d'oro che possono essere prese con le auto ecco qua la sesta moneta praticamente si trova qui sotto scogliere scoscese qui questo punto qua eccola qua provo a prenderla con l'elicottero vediamo se va altrimenti prendo un'auto no va lo stesso perfetto quindi procediamo alla successiva la settima si trova qui praticamente tra le montagne di gatto grill sempre sulla strada potete prenderla anche con l'elicottero vedete dove mi trovo praticamente al gatto grill tra le montagne procediamo alle restanti l'ottava si trova praticamente qui nel ponte che conduce alla fattoria frenetica purtroppo l'ho già presa quindi non la vedrete nel video mentre facevo la sfida dell'auto da corso commercio a parco pacifico però all'interno di questo ponte trovate la moneta d'oro ora non c'è perché già l'ho presa quindi vediamo le restanti la nona si trova praticamente qui vicino siepi d'agrifoglio ora tento di prenderla prima di crepare praticamente eccola qua non potete sbagliarvi e voilà questa era la nona moneta vicino siepi d'agrifoglio vediamo la decima e ultima moneta l'ultima moneta si trova qui tra sabbie sudate e borgo bislacco al curvone vedete eccola qua questa era la decima e ultima moneta d'oro del video quindi ora avete tutte 10 le monete d'oro grazie a tutti